Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui per il round numero 16 di questa ultima stagione della carriera, l'episodio numero 133 della carriera su Motorsport Manager dedicata alla One in One Racing Team guidata dalla Saramson, GP di Singapore. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 15 GP di Sochi in Russia, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. È già da due gare perlomeno che non siamo la vettura più veloce in pista, eppure le strategie continuano a darci ragione. Non riusciamo più a raggiungere le solite doppiette che ormai stavano diventando la normalità nelle nostre gare, ma comunque continuiamo a vincere le gare, nonostante già dalle qualifiche possiamo notare, appunto, come appena detto, di non essere la vettura più veloce in pista. Vediamo come sarà in questo Gran Premio che un circuito in cui il motore non è così fondamentale, e noi siamo molto arretrati nelle nostre prestazioni, siamo tornati indietro nelle nostre prestazioni, soprattutto in quanto tante vetture ci hanno superato nelle prestazioni del motore, su questo circuito potremo essere un po' più a nostro agio anche sul passo gara. Ovviamente, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare la One in One Racing Team, e di lasciare il solito commentino con il vostro pronostico riguardante la prossima gara, il GP di Suzuka, round numero 17 della stagione, stagione che sta volgendo al termine. GP di Suzuka ci arriverà il nuovo motore, ve lo ricordo, quindi teoricamente dovremo tornare ad un buonissimo livello di prestazioni. Questi gli elementi cruciali del tracciato, se non sbaglio arriva per Suzuka, forse no. Mi sono sbagliato, arriverà per il Circuit of the Americas, il nostro obiettivo era di farlo arrivare per Suzuka, ma arriverà per il Circuit of the Americas, quindi anche per Suzuka non avremo aggiornamenti alla vettura. Sulla base di questo lasciate il vostro pronostico, ovviamente se non siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Detto questo, clicchiamo su Continuo, andiamo a scegliere Shell come sponsor obiettivi e andiamo a scegliere il numero di treni di gomme. Come sempre andiamo con 10 treni di gomme rosse, gara che sarà sotto la pioggia, pertanto andiamo con tanti treni di gomme morbide, 8 di gomme morbide e 2 di gomme medie. Montaggio dei componenti già effettuato, scendiamo in pista per il venerdì di prove libere. Ed eccoci pronti per l'inizio delle prove libere venerdì in quel di Singapore, Theo Purcell e Vito Freire le nostre scelte, andiamo a modificare il setup delle vetture. Gomma gialla per Vito Freire, gomma rossa per Theo Purcell e vediamo subito di mandarle in pista per valutare lo stint assetto da gara, quindi mandiamo subito in pista Vito Freire, vediamo lo stint per Theo Purcell, assetto da qualifiche. Abbiamo azzeccato pienamente gomma rossa per il francese, noi ovviamente come sempre ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Terminate le prove libere, si inizia con le qualifiche, si inizia sotto una pioggia che è molto molto importante, sta diventando torrenziale, avremo una piccola finestra per scendere in pista con le gomme slick. Livello 3 per gomme rosse e gomme gialle, assetto da qualifiche, assetto da gara, ovviamente scegliamo gomma rossa, assetto da qualifiche per entrambi. Livello 1 anche per le gomme medie che difficilmente comunque andremo ad utilizzare anche in gara, setup delle vetture, dobbiamo ancora ritoccare leggermente la manovrabilità di Theo Purcell, mentre il setup di Charles Leclerc dice 99%, tutto eccellente, montiamo già con entrambi la gomma rossa. Setup modificati, gomme rosse montate, proseguiamo e prendiamo subito parte delle qualifiche e a brevissimo, scenderemo in pista per il nostro unico giro, scenderemo addirittura quando ci sarà ancora un po' di pioggia per centrare al meglio la finestra per poter fare il nostro giro sulla gomma rossa. Andiamo con entrambi in pista con Charles Leclerc e subito a seguire Theo Purcell, gomma rossa per entrambi, mentre gli altri stanno montando la gomma full wet la maggior parte. Charles Leclerc sta andando a tagliare il traguardo battuto dal compagno di squadra sia nel primo che nel secondo settore, doppio fucsia per Theo Purcell che si mette in vetta però di soli 80 millesimi nei confronti del compagno di squadra, comunque con tre settori fucsia e con questi tempi passiamo tranquillamente nel Q2. Colpi di scena su colpi di scena, la pioggia ha messo fuori gioco tanti dei nostri rivali. Clement Novalac eliminato, sedicesimo, Verstappen diciassettesimo, Arthur Leclerc diciottesimo, Colton Herta e Oscar Piastri. Passiamo in prima e seconda posizione, questo ci va a spianare la strada per le qualifiche. Si parte con il Q2 sotto il sole e sembra che tutta la sessione sarà sotto il sole, noi ovviamente gomma gialla. Con entrambi i nostri piloti vediamo l'assetto di Theo Purcell, 98% tutto eccellente. Non so se andare a modificare qualcosa perché vorrebbe dire spendere veramente tanto tempo però ci proviamo in una maniera molto leggera a modificare il setup di Theo. Gran giro quello di Charles, primo e secondo settore fucsia per ora con Purcell che è molto indietro nel suo giro rispetto al compagno di squadra, 1'22'197 per Charles Leclerc. Theo Purcell in ritardo di tre decimi e mezzo rispetto al compagno di squadra, taglia il traguardo in terza posizione a 4 decimi e mezzo da Charles e soprattutto dietro a Tictum e anche a Russell. Dovrebbe essere un tempo buono comunque per passare il taglio, però dovremmo valutare al termine della sessione. Alla fine siamo scesi nuovamente in pista con Theo Purcell che ha migliorato ma Dan Tictum ci ha superato in classifica il tempo di Theo, il giro fatto nuovamente da Theo era più che altro per essere sicuri, è riuscito tranquillamente a migliorare. Eliminati Xagorari, Schwarzman, Zunoda, Collè e Christian Lundgaard. Possiamo partire con gomme gialle se la pioggia arriverà dopo durante la gara. Prendiamo parte al nostro Q3 che sarà sotto il sole per ora, sembra che ci sia il sole e non ci sia traccia di pioggia. Quindi andiamo in pista, prima Theo Purcell con gomma rossa è arrivato al 99% il suo setup e facciamo scendere subito a seguire in pista anche il nostro Charles Leclerc. Leclerc ha passato il suo compagno di squadra e si sta prendendo il giro più veloce nel primo tentativo di questo Q3. Primo, secondo e terzo settore fucsia, Theo Purcell addirittura quasi 7 decimi, assolutamente il francese deve migliorare il suo tentativo. Andiamo in pista, ma andiamo prima in pista Charles Leclerc con gomma rossa nuova che prova a tirarsi dietro Theo Purcell perché secondo me il tempo di Leclerc è veramente ottimo visto che ha Russell a 4 decimi e mezzo e Tic Tum a poco più, sembra un tempo molto buono già per garantirci la pole position ma almeno cerchiamo di tirare Purcell per provare a fargli migliorare il suo giro e magari a salire qualche posizione in classifica. Leclerc non ha migliorato, anzi molto male nel primo settore, migliora leggermente nel secondo, a 206 millesimi dal suo miglior tempo. Si sta migliorando Purcell ma non è un tempo ottimale, Tic Tum si è migliorato, ma è lontano da Charles Leclerc e Theo Purcell risale in terza. Theo Purcell riesce a prendersi la terza posizione davanti a George Russell e a Liam Lawson e quindi queste qualifiche terminano per noi con la pole position per Charles Leclerc con al suo fianco D'Antictum e in terza posizione Theo Purcell. Griglia di partenza con Charles Leclerc davanti a D'Antictum, Theo Purcell davanti a George Russell, poi Lawson Sow, Maloney De Gerus, Norris Gasly, Xagorari Schwarzman, Tsunoda Collè, Lundgaard Novalak, Verstappen Leclerc, Hertha e Oscar Piastri. Proseguiamo e scendiamo in pista per l'inizio della gara si parte col sole. Si parte col sole, scelta obbligatoria sulle gomme, vediamo però dopo 8 giri arriverà la pioggia e poi ci sarà di nuovo tempo asciutto, quindi pioggia da intermedie e neanche eccessiva. Potremmo andare un po' più lunghi e spingere un po' di più sulla gomma teoricamente. Speriamo che non ci dia un grosso svantaggio nei primissimi giri di gara. Confermiamo quindi gomme morbide a setto da gara per noi, andiamo a modificare il setup cambiando il quantitativo di carburante per cercare di partire al meglio. Direi di andare sui... qualcosa di più anche di carburante. Direi di andare sui 14 giri di carburante con Charles Leclerc e di andare sui 15 addirittura per Tio Purcher di modo da avere carburante da poter consumare nelle primissime fasi di gara. Strategia dei piloti, come sempre, andiamo al massimo e modalità motore alta. E confermiamo la scelta, iniziamo la nostra gara. 1-3 per noi, Charles Leclerc che parte in pole position, attenzione a Dentictum però al suo fianco che parte però male, parte male, parte bene Tio Purcher che ci prova subito all'esterno. Dentictum si difende per ora e riesce a tenere la posizione addirittura Purcher poi attaccato da Russell che ci prova all'interno. Attenzione che Purcher ha perso alla fine tantissime posizioni perché è sceso in quinta. Sfortunato Purcher che ha avuto un ottimo scatto però poi è rimasto bloccato e Leclerc si trova con dietro George Russell, Tictum, Zou e Tio Purcher subito incalzato da Lawson mentre da dietro Verstappen, ottimo scatto. Vediamo se riusciamo a mettere un po' di vantaggio tra noi e George Russell. Ora l'obiettivo è questo, cercare per quanto possibile di scappare nelle primissime fasi di gara. Schianto di Tio Purcher e Safety Car. Secondo schianto consecutivo per Tio Purcher che stava spingendo per cercare di recuperare. Safety Car, il che vuol dire che il gruppo sarà nuovamente tutto unito e ci sono tantissimi pitstop. Non dirmi che montano già, no, gomma rossa nuova. Gomma rossa nuova, non ha senso. Non è una scelta con senso, sinceramente. Tictum pitstop ha montato gomma usata, il che non ha senso. E ora ci troviamo noi con dietro Russell e Colton Hertha. Quindi con tante vetture che hanno perso posizioni. La classifica è stata completamente rivoluzionata. Russell, Hertha, Tictum in quarta. Xagoraris in quinta con gomma praticamente nuova, gomma rossa. Zoe in sesta con pitstop effettuato. Sinceramente non capisco la scelta dell'IA. Anche perché Novala che è ancora confinato in sedicesima posizione. Verstappen in undicesima. Abbiamo Lawson in settima. Tra virgolette questo scontro di Purcher ci ha aiutato. Il problema è che Tio Purcher con questo incidente anche Norris ha incidentato. E non so se sia stata una combinazione dei due incidenti. Se forse si sono scontrati insieme. Perché non vedo la vettura di Lando Norris. E probabilmente proprio con quella di Tio Purcher. Comunque, ormai è successo due incidenti di fila per Tio Purcher. Che a questo punto perde qualsiasi speranza di poter lottare con il compagno di squadra per il campionato piloti. E probabilmente perderemo anche la seconda posizione in classifica piloti. Con il pilota francese che dovrà cercare di recuperare nelle prossime gare. La safety car è pronta a rientrare. Andiamo a spingere al massimo. Modalità motore è alta. E vediamo se riusciamo a riprendere un po' di vantaggio. Nei confronti dei piloti là dietro. Rasse scatta abbastanza bene così come Colton Herta. Mentre Tictum è rimasto molto molto indietro. Quindi ora saremo sotto attacco da parte delle due Alpine. Ma dovremo teoricamente avere il passo nei confronti di due piloti che hanno una gomma piuttosto usurata. Riusciamo infatti a prendere leggermente vantaggio nei confronti dei piloti che sono subito dietro di noi. Vediamo se riusciamo ad arrivare molto tranquillamente alla fase pioggia. Che sta per iniziare. Praticamente la pioggia è lì dietro l'angolo. È arrivata la pioggia. È arrivata la pioggia. Charles Leclerc ha messo 2,7 secondi fra sé e George Russell con Colton Herta che sta facendo anche da tappo nei confronti di Dan Tictum. Ovviamente noi aspettiamo ancora prima di montare la gomma intermedia e faremo un giro ulteriore. Probabilmente alla fine del prossimo giro potremo cominciare a pensare di montare la gomma intermedia. Si fermano tutti, si fermano praticamente tutti per montare la gomma intermedia. Pioggia che sta aumentando anche in fretta quindi alla fine del giro ci fermiamo per montare l'intermedia. Arriveremo fino all'incirca al venticinquesimo, ventisettesimo giro. Quindi dovremo mettere all'incirca 16-17 giri di carburante. Andremo avanti fino al, sì, così fino al giro 28 addirittura. Ne abbiamo a volontà. Condizione dei componenti molto molto buona. Pit stop bilanciato per Charles Leclerc che si ferma alla fine del giro. Rientra Charles Leclerc. Fortunato perché Colton Herta si è fermato per montare l'intermedia. E ha fatto un po' da blocco nei confronti di Dan Tictum, nei confronti dei piloti che sono là dietro. Pit stop effettuato senza problemi per Charles Leclerc che rientra in pista. Andiamo al massimo, modalità motore alta. E siamo tranquillamente in prima posizione con un vantaggio incredibile nei confronti di tutti gli altri. Addirittura abbiamo guadagnato tanto in questo pit stop. 8 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Russell che è subito davanti a Colton Herta. E sono tutti raggruppati lì e ora Charles Leclerc dovrà cercare di scappare ulteriormente per mettere un vantaggio rassicurante fra sé e tutti gli avversari. È appena iniziato il ventesimo giro aggiornamento. Charles Leclerc sta continuando a guadagnare nei confronti di un George Russell che sta facendo comunque un'ottima gara in seconda posizione. 14 secondi di vantaggio per Charles Leclerc. Per ora è un 2-3 per l'Alpine con Colton Herta in terza posizione che continua a mantenere la sua posizione nei confronti di un Max Verstappen che ha effettuato una rimonte incredibile e ha passato anche il suo compagno di squadra Dan Tictum. Poi in sesta e settima troviamo le due Alfa Tauri di Xagoraris e Zou che tengono dietro rispettivamente Arthur Leclerc, Deguerus e Clement Novalak che in questa gara sta facendo una fatica incredibile. troviamo addirittura un Liam Lawson fermo in diciottesima posizione nelle prime fasi di gara. Era nelle prime posizioni e sicuramente avrebbe potuto crearci più problemi. Noi continuiamo ancora per qualche giro, diciamo 5-6 giri per poi molto tranquillamente aspettare che gli altri si fermino in box e fermarci nel giro successivo per essere sicuri di mantenere tranquillamente la nostra prima posizione. La pioggia è terminata, Leclerc inizia il 25esimo giro, potrebbe fermarsi anche ora George Russell. Noi diamo un'occhiata a George Russell che si ferma ora, continua Colton Herta quindi noi alla fine del giro andremo molto probabilmente a fermarci per effettuare il nostro p-stop anzi direi tranquillamente di andare a fermarci, montare un'altra gomma gialla anche se potremmo montare la rossa ma sappiamo che abbiamo la conoscenza per la gomma gialla quindi andiamo di 8 giri di carburante in totale, condizione dei componenti buona, strategia del p-stop andiamo di, anzi anche di sicura, possiamo andare di sicura per evitare completamente gli errori abbiamo solo un 4% di possibilità di fare errori. Si è fermato anche Colton Herta che forse è rimasto leggermente bloccato dietro il suo compagno di squadra ha continuato Tictum però teoricamente i due piloti al pin dovrebbero tranquillamente rimanere davanti a tutti gli altri quindi continuare a fare un po' da tappo in questo senso e Charles Leclerc è all'ultima curva e si appresta a rientrare i box per montare la gomma gialla andiamo in modalità alta naturalmente sia sulla gomma che sul carburante e andiamo a effettuare il nostro p-stop, nessun problema 9 giri di carburante apposta per andare in media e modalità al massimo sulle gomme possiamo proseguire molto tranquillamente con queste modalità vediamo qual è il distacco Russell dovrebbe essersi preso la posizione si si è ripreso la sua seconda posizione con Herta in terza abbiamo 20 secondi di vantaggio nei confronti di George Russell da poter gestire Herta in terza posizione, Verstappen e Tictum in quarta e quinta posizione Charles Leclerc sta andando ad iniziare l'ultimo giro nessuna novità, stiamo gestendo in completa tranquillità la situazione della nostra gara vantaggio su Russell di 20.9 e a sorpresa Colton Herta continua a gestire il suo vantaggio nei confronti delle Ferrari 26 secondi punto 3 il distacco di Herta da Leclerc a 2 secondi di vantaggio su Verstappen 4 su Tictum potrebbe essere uno splendido doppio podio per l'Alpine dietro il nostro Charles Leclerc con un Colton Herta che se non sbaglio tornerebbe sul podio dopo tantissime gare forse l'ultima gara a podio per Colton Herta è stata nella sua precedente esperienza con McLaren una McLaren che è crollata totalmente di prestazioni ma ora la gloria e per il solito Charles Leclerc all'ultima curva Charles Leclerc va a vincere la gara di Singapore ancora una vittoria per il pilota Monegasco ancora una volta distrugge il suo compagno di squadra che per la seconda gara di fila va a muro e quindi qua praticamente si sta confermando il titolo mondiale di Charles Leclerc se lo sta praticamente tatuando addosso questo titolo con tante gare d'anticipo dovremo presto andare a fare i calcoli per vedere quando Charles Leclerc potrà conquistare matematicamente il suo titolo mondiale podio inusuale con due Alpine sul podio George Russell il nostro vecchio pilota e Colton Hertha un nostro vecchio pallino delle precedenti stagioni controlli da parte della FIA per noi nessun rischio di infrazione nessuna regola infranta vince Charles Leclerc con 50 punti conquistati George Russell in seconda Colton Hertha in terza posizione poi Verstappen e Tictum con il giro veloce Xagoraris Arthur Leclerc Degirus Novalak Zou questi primi dieci poi Tsunoda Gasly Schwarzman Collè Maloney Lawson Lundgaard Piastri Tio Purcell e Lando Norris questi ultimi due fuori per incidente classificano prima il podio inusuale di questa gara e poi classifica piloti con Charles Leclerc con 695 punti 178 punti di vantaggio nei confronti di Arthur Leclerc e purtroppo Tio Purcell perde la seconda posizione a meno 7 da Arthur Leclerc si trova a meno 185 dal compagno di squadra per quanto riguarda Charles ha più di 3 gare di vantaggio siamo alla sedicesima quindi teoricamente mantenendo un vantaggio del genere intorno alla ventesima gara potrebbe conquistare il titolo mondiale 1 in 1 Racing Team con 245 punti di vantaggio nei confronti della Ferrari qua il calcolo è un po' più complicato perché bisogna calcolare 51 punti per vittoria più giro veloce più 40 punti se non sbaglio per il secondo posto quindi 91 punti recuperabili da una scuderia in una singola gara nella peggiore delle ipotesi per la scuderia che si trova davanti quindi all'incirca dovremo avere due gare e mezzo di vantaggio nei confronti della Ferrari e della Red Bull reso conto scuderia morale al 100% per Charles Leclerc che acquisisce ricaduta nella dipendenza basta con queste caratteristiche perde il 15% di morale in questa gara Tio Purcell comunque felice il presidente anche se abbiamo raggiunto solo il terzo posto in questa gara quindi primo posto raggiunto sicuramente dalla Alpine un gran risultato per loro 230.400 euro gli introiti al netto di questo fine settimana andiamo alla nostra dashboard per i compiti della post gara ovviamente primo compito quello dei meccanici epistop andiamo a vederli a vedere le possibili candidature c'è un buon profilo capella però 90 soltanto di energia quindi rifiutiamo tutti e andiamo a modificare la squadra per il prossimo Gran Premio questa sarà la nostra squadra meccanici per il prossimo Gran Premio il GP di Suzuka tutti i messaggi del fine settimana l'intervista la rifiutiamo e possiamo proseguire tranquillamente nel nostro calendario per andare alla riparazione della vettura abbiamo terminato anche il lavoro con l'affidabilità praticamente quindi proseguiamo nel nostro calendario ci siamo siamo al fine settimana di gara in quel di Suzuka messaggi del fine settimana torniamo alla nostra home ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate un bel mi piace per supportare la one in one racing team ricordatevi di lasciare un bel commento qui sotto con il pronostico riguardante la prossima gara il GP di Suzuka in Giappone round numero 17 della stagione e ovviamente se già non lo siete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti io vi ringrazio per la visione l'appuntamento e al prossimo episodio ciao wheelers e al prossimo episodio